buonasera a tutti siamo a casa di luigino capovilla vigonza provincia di padova dove abbiamo installato nel mese di febbraio un impianto composto da 8 kilowatt di pannelli ottimizzatori di potenza doppio accumulo da 15 kilowatt per un totale di 30 kilowatt di batterie colonnina per la ricarica dell'auto elettrica tesla e pompa di calore ibrida della daikin allora anzitutto volevo chiederti come mai hai scelto di affidare il lavoro di casa tua proprio bioenergia intanto premetto che un mio collega ne ha parlato per non conoscevo la vita prima ne ha parlato molto bene e di conseguenza mi sono informato non solo con più energia ma qua anche con altre invece ho trovato la bioenergia mi ha dato più affidamento più fiducia in certo senso e così mi sono affidato a loro e penso di aver fatto molto bene in questo caso perfetto quindi tutto quello che ti è stato promesso è stato puntualmente rispettato puntualmente rispettato e questa è una cosa molto importante per me benissimo il lavoro che è stato svolto dai nostri installatori come l'hai trovato hanno fatto un buon lavoro hanno lavorato in sicurezza sono stati precisi sì molto precisi ho trovato veramente delle persone competenti e all'altezza della situazione mi hanno addirittura consigliato come risolvere problemi perché in ogni caso ci sono dei problemi diversi e come risolverli al meglio quindi diciamo che hai avuto un'assistenza degna insomma completa completa veramente installatori all'altezza bravissimi e molto competenti soprattutto e puliti benissimo sei già riuscito a vedere risultati per quanto riguarda risparmio energetico hai già avuto modo di constatare questo in funzione ovviamente perché ci sono dei tempi da quello si vede valeva la pena veramente insomma mi sono contento quindi lo consiglieresti a qualche amico conoscente assolutamente sì assolutamente sì non solo come come impianto nel senso di passare il fotovoltaico come energia pulita soprattutto come dita perché ha dimostrato veramente una serietà sia prima e dopo perché ti seguono anche dopo quindi presumo che anche la mia consulenza sia stata una nota positiva in tutto questo ma soprattutto la consulenza in questo caso da manuela binotto preciso visto che è stata l'altezza della situazione per quello che mi riguarda mi ha consigliato da la la z non mi sono non mi sono preoccupato di niente hanno fatto tutto loro e lei ha fatto in modo che tutto filasse liscio perciò non ho avuto nessun problema ho avuto il lavoro chiave in mano come mi ha promesso benissimo luigino io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza e come ho potuto constatare insomma per qualsiasi evenienza sai dove trovarci e come contattarci ti ringrazio ancora grazie a voi ciao 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 ciao